Grazie e benvenuti in questo nuovo video Io sono FilippoFini99 E oggi siamo qui in un'altra puntata di Soul 2 Flesh and Blood Allora Ieri Non mi ricordavo Quanto avevo registrato oggi Mi sono preso il tempo Quindi siamo pronti a fare Una cosa fatta bene Per fortuna L'ora sempre qua Allora se vi ricordate ieri Non l'ho messo nel video Perché non ci sono riuscito a metterlo Quella persona che abbiamo salvato In verità non era lo scopo della missione La missione che bisognava Cioè la sua antica Bisognava aiutare La persona che era dentro A quella dove c'era su Al gioco dell'orologio Quello lì era un pedofilo Infatti è per questo che era stato attaccato A quella A quelle E cose con le rame Non so che cazzo era E Purtroppo non mi ha salvato Dove era arrivato Quindi Mi faccio questa cosa In paura Ok ci siamo ragazzi Se vi ricordate le strafine Nella scorso capitolo Ok questa adesso muore Ti va vero? Si Oh mio dio Non sentite troppo in colpa Per Zeke Quelle mani toccavano Spesso piccole ragazzine Ora toccheranno solo il fondo Di un bidone Della spazzatura Guarda Come avete sentito Il nostro amico Zeke Era un pedofilo Hai la chiave Con quelle porte La vita Che ci rafferà in tempo Ma che cazzo vuole? Ah Siamo di nuovo qui Questo è un animale d'oroggio Se vi guardate Scusate ragazzi Ho un po' di Puss Comunque vi dicevo Oh Ecco E adesso Forse ho capito Ok Questa roba Anche vivo Questo gioco È molto random Anche negli enigmi Perché tipo Se muori Devi rifare lo stesso enigma Che deve caricare Tanto salviamo ragazzi Vi dicevo È totalmente random Un po' come la Resident Evil 3 Una volta che muori Devi ricominciare Ma non lo sai Se riuscirai a A Come vuol dire A essere lo stesso Ah ok Ah bisogna entrare nel Nel coso Nel grattolo chassò Che vedo Oh mio dio Capo Sta bene? A me pare di no Vediamo cosa ci dice su Ciao Henry Quando sei stato promosso A capo della poesia Gioraste di sbarazzarti Dell'abuso di droga Delle strade Ma con qualsiasi Altro politico Sei diventato parte Del problema Invece che la soluzione Hai contattato Ma che sono fatto Proteggere la gente Normalmente quando Ho un ufficiale La giustizia Cade in basso Come Te si tolgono la vita Ingoiando la pistola Lascia che ti aiuti Te scurro un pannello E una serie di luci Che devono essere spente Ah un po' come la Resident Evil Stanno riuscire a sparare Spesso tutte le luci Su ciascun pannello Sarà O sarà Buio Cioè Muore Detentive Presse di sparato Perché non riusciva A vedere la luce Detentive Tepo ricordarsi È il padre di David Quella Il nostro Il nostro personaggio Ok Bisogna spengere Luce Così Ok Allora No Non morire Male Merda Ah Ce l'ho fatta Perfetto Sì E che è sta roba Asso Vabbè Faccio Tornare A caso Oh cazzo Non l'avevo vista A così vicina Ti prego Non può morire Cazzo No 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 Merda E vaffanculo Ci siamo ragazzi Iniziamo l'altra volta Prima Non è andata bene E mi sa nemmeno ora No Invece si Perfetto Perfetto Adesso Qui Che cazzo E sa che si fa Un'altra Fibra Allora Oh Impossibile E adesso Merda Oh 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 Ora Vichiamo quando Sono riuscito A finire Sazzo Ce l'ho fatta Ragazzi Finalmente Ok 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 Prompiro Michael Ma siamo Michael Deve far riuscire Altri Deve Suo mondo L'accesso A solo Che cazzo Ce ne andiamo via Di qui La prima Pensa che abbiamo Avuto È che fare Una morte Di suo padre Ucciderà tutti Va bene Va bene Da che parte vai Deve andare Verso l'entrata Cerco di trovare Un po' D'aiuto Bene Ci vediamo Da d'altra parte Non fate ammazzare Ok E finisce così Il primo capitolo Di suo Ne verranno altri Comunque Aspettiamo Che I carichi Ci vediamo Dopo Siamo arrivati Level Die Make your choice Che cos'è questo affare La verità È spesso Una realtà D'ascoltare Giubbotto Davanti